L'appuntamento pre-natalizio del punto è sempre un momento particolare, un momento di auguri e direi che ce n'è davvero bisogno. L'anno scorso avevo rivolto una specie di appello per aprire gli occhi rispetto a chi era appena stato nominato primo ministro. Un anno dopo potrei dire che era già tutto stato previsto. E attenzione, non è questione di governo tecnico o politico, chi impartisce gli ordini non siede certo all'interno dei palazzi di Roma, no, 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 lì tutto e più ci sono gli esecutori, i mandanti sono altrove. E le vittime? Le vittime sono intorno a noi, siamo noi. Li abbiamo visti cadere, perdere la vita, sopraffatti dal fallimento della propria azienda o della propria esistenza. Li abbiamo visti chiudere i battenti, finire in mezzo alla strada, licenziati o esudati. Li abbiamo visti disperati, rovistare in mezzo all'immondizia per sfamarsi. Li abbiamo visti tornare a casa dai genitori, spenti e umiliati. Li abbiamo visti mentre cercavano di salvare le proprie produzioni, mentre gli sciacalli delle multinazionali con la complicità europea rubavano persino il diritto a coltivare ciò che tradizionalmente appartiene alla nostra terra. Li abbiamo visti piegarsi sotto il peso degli studi di settore, trascinarsi schiacciati dalle tasse. Li abbiamo visti cadere nella rete dell'usura, quella praticata dagli avvoltoi della grande finanza internazionale, le banche. Li abbiamo visti colmi di disperazione e di rabbia. Li abbiamo visti, anzi, ci siamo visti. E non in tv ma nella realtà. Usciamo dalla finzione, guardiamola in faccia e osiamo trovare insieme una via d'uscita. Una via d'uscita che non può e non deve essere un altro inganno. Uno di quelli che magari abbiamo visto negli ultimi decenni con quel fiume carsico delle illusioni che regolarmente ci vengono proposte ogni volta che c'è una tornata elettorale. Oltre al marciume organico al sistema, quello proprio non lo conto, non merita attenzione. Ci sono i politici furbetti che si riciclano sotto nuovi colori sgargianti. Quelli che tentano di rifarsi una verginità pur essendo in un bordello. Poi ci sono quelli che tentano di ammagliarci con il nuovo, nonostante questo nuovo sia magari stato partorito qualche anno fa e imposto ora sotto mentite spoglie. ci sono quelli che si fanno guidare da personalismi o da ruggini e rancori e se ne fregano dell'aborto della loro creazione. Ci sono quelli così rapiti da un'idea ma proprio da quella solidea per cui tutto ciò che è altro non può essere una soluzione. Ci sono poi quelli innamorati di se stessi ma così innamorati che non si accorgono quanto può essere appagante voler bene alle altre persone, voler bene alla propria comunità. Mi rivolgo a voi oggi, a voi che state guardando questo video, a chi si sente esplodere di rabbia, a chi scalpita per fare qualcosa, tutto subito, perché è con il caos che ci tengono comunque prigionieri di quegli shock necessari a farci restare intrappolati nel sistema. Mi rivolgo anche a chi si sente smarrito, impaurito, perduto. È così che ci vogliono far sentire. Ostaggio di una schiavitù senza catene che però ci schiaccia sino di immobilizzarci. In questo modo cadiamo vittime della rassegnazione, dell'immobilismo. E poi mi rivolgo a tutti coloro che quest'anno mi sono stati da esempio e mi hanno dimostrato che è possibile cambiare proprio partendo da se stessi e dalla propria comunità. Ho incontrato persone che hanno ricominciato a praticare il baratto e sono riuscite a far sopravvivere più che dignitosamente diversi nuclei familiari. Ho visto persone che hanno deciso di scambiarsi le sementi tradizionali per non fare morire le nostre produzioni. Ho incontrato medici che si sono sottratti alla tirannia delle multinazionali e all'imposizione dell'industria della malattia. E ho visto altri medici in prima linea contro chi per il profitto inquina l'ambiente e ammorba i cittadini. Ho incontrato genitori che hanno deciso di salvaguardare la salute dei propri figli ad ogni costo, anche evitando vaccinazioni pericolose. Ho incontrato genitori che hanno lottato fino all'ultimo con tutte le loro forze affinché la giustizia condannasse che ha ucciso un'intera generazione di bambini, nascondendosi dietro il paravento di una calamità naturale. Ho visto la mia gente delle miglia in ginocchio dopo il terremoto rimboccarsi le maniche e ricominciare da capo. Ho voletto della gente del pollino, scossa e estremata, che va avanti, sostenuta anche da chi, lontano dalle luci dei riflettori ma ben competente sulla portata del terremoto, è sempre pronto per informare e per dare una parola di conforto. Ho seguito chi, distante da ogni tipo di palcoscenico, mediatico e politico, ha messo al centro una seria e dura lotta contro la criminalità, facendo della legalità la propria battaglia quotidiana, anche quando questa significa rischiare ogni giorno la propria pelle. Ho incontrato anche un giornalista che ha avuto il coraggio di denunciare nei propri libri il malaffare che corrode l'Italia. Ho conosciuto un conduttore che ha osato andare oltre le righe e portare in tv argomenti che svelano i complotti di cui noi siamo vittime. Ho letto di un magistrato che ha denunciato cosa c'è dietro le grandi stragi impunite in Italia. Ho poi conosciuto che ha cercato di aiutare cittadini ed imprenditori a liberarsi dalla morsa dell'usura e dalla schiavitù delle banche. E ho appreso di tanti cittadini che hanno deciso di non arrendersi e hanno scommesso nuovamente sulla loro attività. Ho visto giovani e meno giovani che hanno deciso di uscire fuori dagli steccati della scuola e della disinformazione di massa. Li ho visti andare alla ricerca dell'informazione, quella vera in ogni settore. Ho sentito blogger e attivisti darsi da fare per divulgare l'informazione, quella taciuta da giornali e tv. Ho incontrato genti diverse, da ogni parte d'Italia, persone volenterose e brillanti che hanno deciso di sfidare questo sistema creando nuove risposte, nuove risposte a misura d'uomo con le quali hanno rimesso al centro la solidarietà, la condivisione, la dignità dell'esistenza, la felicità, la propria e quella degli altri. E quindi se vi siete riconosciuti o se vi siete sentiti molto vicini a qualcuna di queste splendide persone che ho avuto la fortuna di conoscere, di incontrare, di incrociare, allora è proprio a voi che rivolgo il mio più grande augurio. Non abbiate paura, osate e siate quel cambiamento che volete realizzare.